Si pentano e chiedono perdono gli assassini di Salvatore Bennici, Angelo Aiola, Gaetano Bottaro, Giovanni Brunetto e dei coniugi Rita Di Miceli e Antoni Notimoneri. Verrà il giorno in cui essi si presenteranno al giudizio di Dio. Con questo monito, padre Giuseppe Scandrone si è rivolto ai fedeli presenti nella Chiesa del Carmine all'apertura della Santa Messa celebrata in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime innocenti delle violenze. Alla manifestazione, organizzata dal Comitato Civico Domenico Cantavenera con il sostegno dell'Associazione a Testa Alta hanno aderito diverse associazioni, tra le quali la Fervi Credo Feriti e Vittime della Criminalità e del Dovere e il CIF Centro Italiano Femminile Sezione di Licata. Tra i presenti è anche il Presidente del Consiglio Comunale Severio Platamone il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Licata e il luogotenente Alfonso Lorenzano e i familiari di alcune delle vittime di casi ancora irrisolti come quelli di Gaetano Bottaro e dei coniugi Rita e Antonino Timoneri. Ma molti gli assenti, soprattutto tra le fila delle forze dell'ordine e dell'associazionismo locale. Durante la celebrazione, gli interventi del Presidente del Comitato Civico Antonino Lomonaco, di Irene Santa Maria e Sabrina Peritore dell'Associazione a Testa Alta, del Presidente del Consiglio Comunale Severio Platamone e del Segretario del Comitato Civico Agostino Licata. Siamo qui non solo per ricordare, ma anche per dare un segnale di compattezza e di unità tra associazioni e quindi tra cittadini, ha affermato Irene Santa Maria, Vicepresidente di A Testa Alta. L'indifferenza, la nostra passività, la nostra non rabbia e non indignazione per ciò che è accaduto ai nostri concittadini e ai loro familiari colpisce di più del singolo gesto omicida dell'atto violento che essi hanno subito. Sabrina Peritore, segretaria di A Testa Alta, nel suo intervento ha espresso profonda solidarietà ai familiari delle vittime che, oltre alla perdita dei propri cari, devono sopportare il peso dell'ingiustizia per la mancata individuazione dei colpevoli, alimentando in loro la rabbia che dovrebbe lasciare il posto alla rassegnazione. L'omertà, ha aggiunto Sabrina Peritore, li ha uccisi una seconda volta. Se veramente vogliamo il cambiamento della nostra terra, il primo cambiamento deve essere il nostro. Un corteo commemorativo, dopo la celebrazione della Santa Messa, si è diretto verso l'abitazione dei coniugi Antonino e Rita Timoneri in via Marotta, dove è stata deposta una corona in ricordo di tutte le vittime della violenza, di ogni forma di criminalità e dell'omertà.